Lui non era preoccupato, lui non è tornato mai a casa e ha dato segnali di preoccupazione, non ha parlato mai. Noi dicevamo, a volte dicevamo, senti, non ti esporre troppo nelle omelie, ma in generale, senza nessun riferimento a cognomi o a famiglie, ma al sistema criminale e camorrista in generale. Ma lui diceva, no, mamma, papà, sorella, fratelli, questo è il mio compito, quello di annunciare il Vangelo, quello di portare tutti sulla retta via. Quindi per lui tutto quello che faceva era scontato, era normale.